Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo video tutorial su come convertire una mod dal 2013 al 2015 però questa volta non con versione di base ma questa volta facciamo una conversione completa cioè portare tutto al 2015, cioè dato che avete visto che faremo un rimorchio, gli faremo il plane dinamico come nel 2015 gli faremo il dirt del 2015, insomma dal 2013 proprio la convertiremo completamente al 2015 con tutte le specifiche del 2015 con gli script del 2015, insomma tutto 2015 ok, allora partiamo da che io andò a convertire appunto il visini 4 assi di Marco Lussi e Vitali per cui quando abbiamo la nostra moda da convertire qua sul desktop facciamo tasto destro, estrai file adesso non so perché è così lento è che probabilmente Camtasia mi rallenta un po' quando registra ok, ce la portiamo qua allora andiamo ad aprire questo ragazzi non ho toccato niente, questo è il visini proprio del 2013 portato qui per cui allora prima di partire con la conversione fate una cosa ovviamente dovete avere Giants Editor da versione 6.0.3 perché già se avrete la versione 6.0.2 qualche mod non vi si vedrà dentro per cui mi raccomando l'ultima versione è sempre aggiornata aprite l'E3D della mod ecco qua allora tanti mi dicono porca miseria io apro l'E3D e mi si vedono solo parti di mod non mi si vede la mod intera e anche qua succede, vedete? questo perché? perché ci sono gli shader che non sono giusti vedete che qua si vede il plane del 2013 perché nel 2013 il plane si faceva così si vedeva direttamente da Giants si vede il telaio, si vede la PTO e qualcos'altro, il piedino così manca la vasca, mancano le texture delle scritte e tutto quanto allora ragazzi dovete imparare una cosa non è che perché non si vede vuol dire che non va e bomb voi basta che guardate qua sotto a destra c'è questa parte con scritto scripting se non l'avete, tipo ce l'avete così vedete? non c'è niente andate in window e fate scripting e questo praticamente è il log del 3D vedete che, vabbè qua non vi interessa partendo dall'inizio vi da cosa avete sul computer e tutto quanto se andate verso il fondo vi parlerà della mod da dopo tire tracks se ci sono errori vedete che vi dirà errore outdate custom shader vuol dire che lo shader del 2013 che principalmente sono in versione 3 non va bene perché è in versione 2 e poi comunque sono shader nuove cioè qua vi chiede che il dirt shader cioè lo shader del dirt ok? non va bene non va bene l'emissive l'emissive billboard shader perché nel 2015 si chiama emissive update shader per cui sono da cambiare per cui voi chiudete qua lui vi ha detto dirt shader emissive billboard shader ok non salviamo niente andiamo a cercare questi questi documenti XML che non vanno bene per cui partiamo da vabbè io qua c'ho due c'ho il visini normale e il visini celeste per cui partiamo dal celeste vediamo oh eccolo qua emissive billboard shader non va bene tanti nei tutorial fanno vedere che basta mettere la versione 3 e funziona tutto no perché nel 2015 cambia proprio anche il nome per cui noi cosa andiamo a fare tiriamo via questo e lo buttiamo nel cestino andiamo nella cartella di farming in C programmi per 86 farming simulator 2015 data vehicles e andiamo a prendere l'emissive additive shader che è qua facciamo copia io comunque in descrizione vi lascerò tutto vi lascerò l'emissive additive shader il vehicle shader dirty vi lascerò delle stringhe che troppo andremo a vedere insomma voi prendete quello che vi lascio io poi comunque vi faccio vedere dove andare a prenderle se nel caso non ve le avesse lasciate ecco e lo copiamo dove era prima l'emissive billboard cioè qua nella cartella celeste e qua ci siamo eccolo qua andiamo nella cartella dirti che questo è il dirt del 2013 che alla fine non ce ne facciamo un cazzo scusate la parola perché comunque il dirt è da rifare però noi per sicurezza comunque che ci che riusciamo a vedere il rimorchio completo dobbiamo cambiarlo per cui tiriamo via il dirt shader comunque ci sono mod che non hanno bisogno di questo sistema perché non avevano proprio il dirt nel 2013 andiamo sempre nella cartella vehicles e andiamo a prendere vehicles shader dirt copia incolla ok e questo è a posto a questo punto andiamo nella cartella di quello l'altro quello rosso vedete che è texture rossa facciamo la stessa lo stesso procedimento se magari ok incolla togliamo questo e mettiamo il vehicle shader dirt copia incolla questo ragazzi oggi è un video di introduzione perché non faremo chissà cosa ma poi nei video più avanti dovete aprire bene le orecchie e guardare bene perché ci saranno cose abbastanza difficili da fare ve lo posso assicurare ok abbiamo cambiato in tutti e due a questo punto dobbiamo andare ad editare l'i3d con nonpad plus plus quindi tasto destro sul primo i3d che è il visini rosso edit with nonpad plus plus dobbiamo rimapparlo dando gli nomi all'xml giusto vedete che qua c'è emissive billboard shader ecco dobbiamo dargli il nome dell'additive quindi dobbiamo fare prendere fare rinomina copiamo il nome facciamo prima senza scriverlo copia eliminiamo questo e incogliamo qua il nome ecco qua adesso non mi ricordo se c'era anche l'altro non mi sembra perché c'era solo il ok non c'era per cui lo andiamo a fare dopo però a questo punto facciamo che farlo anche direttamente nel celeste si nell'i3d celeste l'altro i3d quindi editiamo anche questo cancelliamo il billboard shader incogliamo adesso andiamo a prendere il vehicle shader dirt che è nella cartella dirti facciamo rinomina copia tanto poi ripeto il dirt è eliminato per cui allora dirt shader nel 2013 era così quest'anno è vehicle shader dirt 1 e 1 2 perché qua ragazzi c'è la doppia versione rossa e celeste per cui sono due i3d salva uno file salva un altro ok a questo punto proviamo ad aprire gli 3d uno a caso uno dei due ecco qua vedete che è comparsa la vasca e tutto quanto eccolo qua vedete vizini gaspardo bellissimo tra l'altro qua però ci da ancora un errore ok perché alla fine quando quando gli diamo il dirt del 2015 quando gli diamo l'input del dirt del 15 ci manca la texture dirt però vabbè sì possiamo mettere già che siamo qua mi chiede seguitemi bene c user gianluca desktop perché queste sono le cartelle di indirizzo dove dovrà andare a prendere il dirt visini 4 assi che è la nostra cartella dirty textures dirty shared quindi dobbiamo creare dentro nella cartella dirty qui una cartella con scritto che poi varrà anche per il nuovo dirt che faremo con scritto shared e dobbiamo andare a prendere sempre nella cartella di farming il dirt normal che principalmente si trova in shared nella cartella shared dirt normal che io vi lascio in descrizione anche questa quindi nella cartella shared incolla facciamo copia io la copio direttamente nel celeste copia incolla ok a questo punto possiamo chiudere questo possiamo chiudere la cartella di farming ok celeste perfetto adesso proviamo ad aprire il celeste a vedere un po' cosa fa qua mi da ancora un qualcosa shader dirt shader disconverte texture dirt 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 shader c'è ancora nella cartella celeste no qua non c'è quindi questo o è il andiamo un po' dirti vehicle shader dirt allora aspettate già che siamo qua facciamo trova se mi da un altro dirt shader un altro dirt shader non mi sembra impossibile ah ecco quasi infatti mi mancava questo c'era ancora questo qua quindi facciamo riprendiamo vehicle shader dirt facciamo copia e lo mettiamo qua incolla ok file salva e ogni volta che andrete a mettere una texture dovrete poi rimappare qua però poi questo andremo a vedere perché comunque è un discorso a parte riapriamo il vesini celesti celeste scusate ed ecco che ci darà solo un warning dello shape che è vecchio però non ce ne frega poco e niente ed ecco qua che abbiamo il modello completo di tutto quanto tranne il dirt perché ovviamente il dirt del 2013 non va assolutamente bene e anche quello rosso in teoria che adesso avrà lo stesso problema che c'era l'altro dirt shader no ok qua l'altro dirt shader non c'è per cui è perfetto ed ecco qua come far comparire la mod nel caso vi si vedono solo pezzi e questo è uno dovete cambiare gli shader e portare quelli del 2015 allora partiamo un po' dagli xml adesso abbiamo visto come cambiare prima di tutto cari miei ragazzi se trovate un rimorchio con la cartella polveri perché le polveri una volta nel 2013 la polvere delle ruote quando va si metteva nell'i3d invece quest'anno l'hanno fatto di default per cui togliete assolutamente la cartella polveri con dentro sui 3d gli xml e tutto quanto togliete il particle system perché comunque no il particle anzi facciamo così lasciamogliela lasciamogli la cartella polveri perché perché poi comunque anzi no lasciamola fuori lasciamogli il particle system perché dopo andremo a vederlo in game tra qualche minuto perché tanto adesso dobbiamo fare una conversione velocissima allora per fare la conversione di base è questo cambiate gli shader andate in moddesk ovviamente numero del moddesk fate 21 e adesso ce l'ha patch 1.4 per cui in teoria 21 dovrebbe andare ancora bene poi se non va bene lo portiamo a 22 23 o 24 con 21 vanno tutte su questo è sicuro allora io metto versione 2 perché è la conversione vabbè questi sono i titoli lasciateli sempre come sono description icon file name lasciateli così store.dds lasciateli così multiplayer supportato true mettete sempre true perché è vero ok togliete se trovate se trovate le specialization i 110 n con bell left bell right bell warn toglieteli perché queste sono le frecce anche le frecce nel 2013 andavano messe nell'i3d invece quest'anno le hanno messe di default per cui voi fate così togliete le tre specialization versione washable bell chung che sarebbero le frecce toglietelo ok qua nei vehicle type dovrebbe esserci bell chung eccolo qua ok will particle dobbiamo togliere che sarebbe le polveri will particle spatch perfetto togliamo saliamo portiamo un po' tutto a pari perché mi sta sulle balle a me vedere sempre sto casino ok qua abbiamo vabbè unlock lock steering lock steering axles che sarebbe bloccare gli assi sterzanti poi abbiamo anche la pto manuale di bjr queste le lasciamo tutte perché comunque sono già state fatte qua abbiamo la stessa cosa per cui quando vedete che è tutto a posto togliete le frecce togliete il will particle le polveri siete a posto qui andiamo nella parte dello store ok quindi il nome questo è il nome che vedrete nello store visini d'un per quattro assi poi mettete voi quello che volete questo lasciate tutto così senza problemi togliamo solo le specifiche perché le dobbiamo andare a fare poi noi per cui se trovate questo specie con la scritta arancione togliete e alzatevi anzi lasciate giusto così lo spazio tanto per ok qua rotation lasciate sempre zero immagine immagine active e brand cioè questa è l'immagine dello store il brand potete lasciarlo sempre così tanto anche in png tanto non cambia niente questo è il prezzo possiamo cambiare il prezzo noi a posto di 75.000 mettiamo 80.000 1 2 3 ok 80.000 daily and keep il costo giornaliero lo mettiamo a 100 da già che ci siamo xml file name è il nome dell'xml della mod quindi lasciamolo così visini3.xml questo è il brand visini ok va bene così allora machine type nel 2013 la categoria il tipo di categoria della mod era machine type quest'anno è passato a categoria quindi dobbiamo mettere categorie io so io vedo che tanti mod lasciano machine type poi nel log viene fuori il warning attenzione che dovete cambiare il type della mod per cui noi mettiamo categorie lasciamo tippers perché è il rimorchio tippers quest'anno l'ho anche amato così una volta era trailers poi tippers insomma ok qua vabbè vedete che qua abbiamo le due versioni questo è il visini normale poi c'è il visini celeste per cui lo facciamo anche a lui io vabbè ragazzi vi faccio vedere una mod con due due con due mod appunto stessa mod ma con due versioni diverse categori categori gli input bindings dobbiamo togliere sempre le frecce quindi bell left warn right ok perfetto e qui siamo no non siamo a posto perché adesso dobbiamo dargli le specifiche e le function io in download oltre a lasciarvi il dirt normal il veicolo shader dirt gli xml vari vi lascio aspettate che trovo queste le ho già messe sì vi lascio le specifiche e le function queste qua io adesso le prendo tutte così almeno capite copia perfetto perché qua la conversione che ho già fatto per cui noi adesso prendiamo questo il nostro moddesk che stavamo facendo a farti fottere scusate la parola perché non ho salvato vabbè lo rifacciamo in velocità via queste perfetto via il particle spatch fuori da le balote rimettiamo in ordine bel ciung will particle perfetto mettiamo anche questa dai ok lock bjar perfetto maledetta ok categori categori mannaggia loro mannaggia che non salva togliamo le altre frecce mettiamo categori categori ok adesso diamo le specifiche dello store quelle che ho copiato appunto facciamo copia per sicurezza allora sotto categori facciamo un salto in giù e facciamo incolla ok allora cosa sono queste come vedete abbiamo what the fuck scusate la parola scusate un attimo a questo visini ah ok posto va bene va bene sbagliato io ok allora una volta che abbiamo messo abbiamo fill type fill type sarebbe cosa può contenere ma ovviamente questo riguarda solo lo store per cui adesso andiamo nell'xml della mod così questo è il visini va bene per tutto cerchiamo nell'xml il fill type anche qua allora anima animotion fill types wet rape maize barley chaff potato sugar bats manure silage quindi tiene orzo frumento mais colza erba patate barbavietole liquid solid manure cioè l'etame solido e l'insilato per cui facciamo copia per adesso perché poi quando andremo a fare il plane dinamico con un nuovo particle cambierà un po' e glielo mettiamo qua ok copia incolla need power è la potenza necessaria io questo qua cazzo sono 4 assi ci vogliono almeno 200 cavalli credo quindi mettiamo 200 capacity è la capacità del rimorchio che troviamo sempre nell'xml però adesso ce l'avevamo già aperto andiamo a cercare qua capacity che è 54500 fate copia per non starli a scrivere e lo mettete nel capacity incolla ok ecco tutta questa parte qui che riguarda lo store le specifiche che abbiamo messo le vediamo andiamo a vederle qua quando siamo allo store troverete questo che è la manutenzione che prima era 95 euro al giorno nell'xml la capacità è giusta 54500 litri e questo è il fill type i tipi di prodotto che verranno letti qua vedete c'è frumento colza mais orzo insilato manure barbabietole e tutto quanto e questa è la parte dove verrà appunto noi faremo quello e verrà scritto qua ok poi andiamo le function questo è esattamente questo qui sempre nello store dove all'utilizzo i cassoni barra rimorchi servono per trasportare il raccolto se mettete questo 110n function tipper vi darà questo i cassoni rimorchi servono per trasportare il raccolto potete anche scrivere voi ok basta che fate scrivete in grande rimorchio ok io scrivo rimorchio 4 assi per esempio lui io avevo fatto anche una skin di quello che avevo scritto prima vedete avevo scritto rimorchio 4 assi con scarico posteriore insilato e sementi che poi comunque scusate avevo scritto anche altro basta che scrivete sempre rimorchio in grande e poi scrivete quanto volete non tantissimo perché non è che c'è tanto da scrivere scrivete quello quello che volete appunto e qua adesso vabbè insomma adesso 4 assi con scarico posteriore adatto per cereali insilato 4 assi con scarico posteriore sentiamo la virgola adatto per mamma mia con scarico posteriore adatto per cereali insilato insilato e sementi dato per cereali cereali insilato madonna insilato e sementi sementi ok sempre scritto in grande mi raccomando e qui siamo praticamente a posto ok a questo punto prendiamo la stessa cosa fate copia copiamo sul secondo tipo di rimorchio ok è a posto il moddesk è fatto ok è qui poi ci saranno mod che non avranno tutta questa roba qua perché allora attaccable animated veicolo cylinder filable trailer mouse control vehicle sono gli script di default quindi questo è dotato di script di default però attenzione perché adesso mi stavo dimenticando che dobbiamo andare nella cartella documenti my games fammi inserito 2015 mod che mi stavo dimenticando che in teoria dovete cambiare questa qua che tante volte il data s è diverso per cui noi per sicurezza prendiamo una mod già fatta nel 2015 andiamo qua cancelliamo questo sempre per sicurezza e facciamo incolla così siamo sicuri che gli script li va a prendere nella cartella giusta ok quindi adesso salviamo quello che abbiamo fatto però ripeto ci saranno mod che non avranno tutta sta pappardella perché saranno mod senza script e mettergli gli script non sarà facile perché tante mod una volta che gli mettete il veicolo type con gli script non funzioneranno per cui è meglio se trovate sempre una mod con gli script di default quindi facciamo file salva chiudiamo questo anzi lasciamo aperta la cartella mod che tanto poi dobbiamo tornarci dentro ok adesso diamo uno sguardo all'xml veloce al momento non dobbiamo fare assolutamente niente ok sì oddio potremmo dargli l'index alle ruote giuste per cui noi andiamo ad aprire il nostro i3d andiamo a vedere le ruote le ruote partono da qua quindi da 07 08 09 fino a 012 quindi facciamo qua 07 08 fatelo perché tante volte solo così non ve lo legge 09 010 011 012 ok queste sono le altre facciamo 021 e 022 ok togliete il downforce perché non serve assolutamente light corona sono le luci quindi andiamo a vedere dovrebbe essere 014 luci io le luci normali e i freni lascio sempre quelle del 2013 vabbè adesso qua perché ho cancellato non lo so neanche io 014 le luci brake light che sono le luci dei freni che noi le avremo in luci aggiuntive stop 015 2 015 2 che è già a posto perfetto togliamo le frecce perché tanto poi non andranno quando c'è light set add on toglietelo ripeto io lascio sempre nei rimorchi che ho fatto le luci del 2013 i freni e le luci rosse praticamente tanto per farvi capire poi le frecce metto quelle del 2015 e magari anche la retro lasciamo il plane di default lasciamo il plane del 2013 tanto perché adesso andiamo a vedere in game se si è fatta la conversione di base questo lasciamo tutto così cambiamo i suoni tirate via questa hydraulic sound e fill sound andate in una mod del 2015 io prendo tipo il randazzo di ago gli prendo le sch... gli prendo le... 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 no non è questo ok ho anche sbagliato rimorchio ok questo qua ok tanto qui non è questo qua non è rubare pezzi è questo è prendere delle stringhe dei suoni che tra l'altro vengono dalla cartella di farming che poi vedete questo è dove deve andare a prenderla nella cartella di farming incogliamo ok attacker joint mettiamo sempre lo 0 davanti tip dobbiamo cambiare il tip reference point che il mio dove cavolo dove diamine è aspettate che mod lo prendo da uno che ho fatto io dal grazioli se c'è ancora si ok io comunque ragazzi vi lascio vi lascio tante cose in descrizione questo ve lo posso assicurare tip reference point ecco qua voi mettete sempre questo che va sempre bene attacker joint va bene così dai anzi mi sa che è da cambiare anche la attacker joint allora il mio tip reference point è tip reference point 0.3 perfetto ok l'index è giusto attacker joint trailer low va bene torniamo ok quindi questo lo lasciamo 0.2 diamo sempre se è giusto attacker joint è 0.2 quindi è perfetto fill type lasciamo così polveri ruote tiriamolo via perché non ci serve più dirt lavabile poi lo tireremo via quando gli faremo il dirt mouse control power take off che è la la pto manuale qua abbiamo tutti i suoi index che vanno già bene così anche perché non abbiamo toccato niente nel 3d per cui questo possiamo chiuderlo per ora lasciamo così l'xml file salva local si ok no perfetto adesso chiudiamo questo riprendiamo questo diamo un'occhiata se abbiamo fatto tutto si non c'è più niente specifiche function diciamo sempre un salva per sicurezza perché non si sa mai questo abbiamo dato tutto quanto poi ragazzi quando faremo il plane elimineremo tutta sta roba qua metteremo stringhe nuove insomma ci sarà tanto da fare oggi vi ho fatto vedere come convertire un qualcosa per vederlo in game dal 2013 al 2015 dal prossimo video incominceremo a darci dentro con la vera conversione questo abbiamo fatto quindi salva adesso ragazzi io faccio faccio il celeste rifaccio gli metto l'index e poi ci vediamo in game che vediamo se questa conversione così di base ha funzionato allora ragazzi vediamo un po' se questa conversione di base è uscita andiamo allo store andiamo in mode cassoni ribaltabili e cerchiamo i nostri visini che deve essere verso la v come giusto che si eccoli qua vabbè io qua c'ho i 2-3 assi che appunto sono stati già convertiti da loro allora vediamo un po' clicchiamo sul celeste ecco qua quello che abbiamo messo 100 euro al giorno ed ecco che è uscito 100 euro al giorno capacità 54.500 litri i tipi di prodotto sono quelli che abbiamo messo ecco qua la descrizione vedete rimorchio 4 assi con scarico posteriore adatto per cereale insilato e sementi stessa identica cosa per lui quello rosso se tipo andiamo a vedere vedete che anche tipo lo schmizza hanno scritto loro se invece andiamo a vedere le mode di default quindi mezzi originali se andiamo sui cassoni ribaltabili mortacci ok vedete che qua c'è il loro 110 n come era prima che è i cassoni rimorchi trasportare raccolte eccetera eccetera per cui io direi di comprarli tutti e due per vedere se questa conversione abbiamo due rimorchi del 2013 perché abbiamo il plane del 2013 particle del 2013 facciamo uno e uno due li rimpostiamo perché ora che vado allo shop passano i secoli per cui rimpostiamoli qua ed ecco qua i nostri bei rimorchi quattro assi convertiti però c'è conversione proprio la scarsissima di base adesso prendiamoci un trattore che è lì sì perché qua ragazzi avete ben capito che sono sulla sosnovca lì quella praticamente questo è il dlc adesso ci capiamo dato che comunque l'ho acquistato anch'io adesso vabbè se vedete luci accese così non preoccupatevi perché comunque è la conversione dovete ancora dargli un po' di index rifare le frecce e tutto quanto ecco qua che noi ci attacchiamo se scendiamo vedete che c'è tac pto con il tasto q ecco fatto adesso proviamo a lasciarla staccata vabbè gli da l'index vabbè adesso ci esce perché di default esce fuori la pto per cui poi andremo a toglierla proviamo a caricare vedete che adesso vabbè le frecce rimangono perché sono dentro nel 3D che poi saranno da togliere e mettere quelle del 2015 però adesso vedete ho frenato i freni funzionano qua vabbè sto usando un trattore da 150 cavalli per un bestia del genere vedete che inizia riempimento con R e vedete che abbiamo appunto un plane vedete che abbiamo il plane del 2013 adesso che traballa così ragazzi non preoccupatevi perché poi ripeto questa è una conversione proprio scarsissima di base che poi dovremmo andare appunto a rifare un po' di cose vedete che poi non traballerà più adesso questo porta 54.000 litri per cui qua ce n'è ancora siamo appena a 40.000 vedete i plane fatto da Marco Lussi e Vitali nel 2013 questo poi noi lo renderemo plane dinamico con le texture del 2015 ce la fa tirarlo perché perché ce la fa ma vedete la fatica comunque si vede come sono a chiodo eh sono assi sterzanti davanti e gli ultimi due come come mod fa tutto perché carica scarica quindi è a posto quando arriviamo qua facciamo scarica vedete che l'animazione c'è già solo che poi dovremmo andare a rifarle purtroppo particle non si vede perché probabilmente non gli abbiamo dato l'index però vedete che lui scarica l'animazione dei pistoni funziona però ragazzi ripeto una volta poi messe le cose nuove tipo frecce plane nuovo così dovremo andare a rifare tutte le animazioni come succede con i rimorchi e i trattori in teoria se proprio proprio i trattori hanno già le animazioni nel 13 nell'XML siete fortunati però dato che nel 2013 le animazioni si davano dall'i3D nell'i3D quest'anno bisogna metterle principalmente nell'XML per cui vi farò vedere anche come si fa un'animazione come si fanno le animazioni nei rimorchi per cui questo ragazzi sarà una serie di tutorial veramente utili per voi che cercate comunque di convertire una mod per cui abbiamo accertato che funzionare funziona vedete io adesso se accendo le luci non otterrete dietro quelle delle frecce che vedete che si accendono gli stop funzionano vabbè adesso non si vede purtroppo poi andremo a togliere comunque la luce delle frecce vecchie vedete che si vedrà tutto ecco qua per cui ragazzi abbiamo accertato che la conversione è iniziata si vede in game e va bene dal prossimo video iniziamo a darci dentro con inizieremo in teoria a fare il plane quindi metteremo un plane dinamico un particle nuovo poi vediamo magari di cambiargli le ruote nel caso ma non credo ce ne sia bisogno per cui prossimo episodio direi di fare un plane dinamico per cui penso che sarà appunto solo quello fare un plane dinamico perché comunque il procedimento è lungo dobbiamo mettere stringhe nuove editare l'i3d insomma dobbiamo fare tanto un bel lavoretto per cui ragazzi ci vediamo nel nel prossimo video ciao ciao